In una rosa nuova, dove dovremmo fare l'incirca tra i 15 e i 20 calciatori, non è semplice farlo subito prima del ritiro o in modo immediato. Quindi da lì abbiamo tutti pensato che l'elemento principale, primario, era quello di fare la difesa, perché nel ritiro, secondo noi, la fase più importante dove viene allenata sono proprio il reparto difensivo e il centrocampo, perché poi sono gli automatismi che rendono un reparto forte, più o meno forte degli altri. Quindi per adesso ci siamo approfonditi molto sul reparto difensivo, cercando di mettere più giocatori che noi reputiamo di qualità e soprattutto di avere una difesa equilibrata in tutti i loro interpreti, nel senso che tutti più o meno sono sullo stesso livello. Conosco anche il mercato, il mercato mi dà l'indicazione che comunque verrà fatto sicuramente dopo il ritiro, perché poi tutti i giocatori anche di un certo livello partono il ritiro, si giocano le loro carte e poi capiscono se possono restare noi in un gruppo. Sia quelli che sono di proprietà di categoria superiore, sia quelli che hanno fatto molto bene in questa categoria. Quindi bisogna stare molto attenti. Penso che sia il ritiro, non partiremo con i giocatori offensivi, però non è detto. Io lavoro il più possibile per cercare di portarlo anche il più presto possibile. Dare un termine non riesco a quantificare, però già da domani io sono a Milano al mercato per cercare di battagliarmi. E portare magari anche due portieri in Amaranto, con Benassi la priorità? Sì, Max è una priorità. Siamo forse il primo giocatore che ho contattato, forse il primo giocatore che pensavo di fare, e invece si stanno complicando le cose, però su Benassi sono ottimista. Anche se nel calcio quando si dice questa parola significa che al 99% non si fa. Perché come ripetevo prima in conferenza stampa con il mister, questo è un periodo dove si dicono tante di quelle bugie che alcune volte ci credo anch'io. Quindi riportare poi cose che non sono lontane dalla verità non credo che sia neanche corretto nel rispetto di voi professori stessi, soprattutto dei tifosi. Però su Max sono ottimista. Sul secondo portiere, anche sul secondo portiere, credo di essere abbastanza vicino. Sicuramente per il ritiro i tre portieri ci saranno.